Comincia il nuovo campionato, quello di Serie D, sicuramente è difficile, però è chiaro che così come già hanno detto i tuoi colleghi, ma così come dice la dirigenza, il Gera quest'anno punta ad un campionato, non dico di vertice, ma quantomeno si punta a playoff, lo possiamo dire chiaramente? C'è tanta voglia di lavorare e già ci sono anche ragazze esperienti che stanno cominciando a dare i primi input e i primi segnali e questo ci fa capire quanto sia importante per il Gera questo campionato. Ma già importa il suo titolare oppure sarà una guerra domenicale fra te e il tuo omologo? Diciamo che già con Moreno ci conoscevamo da prima, rispetto a ora, abbiamo fatto tutte le trafili del settore giovanile del Catania insieme e prima di essere colleghi sul campo siamo amici fuori, poi ovviamente è normale che sul campo l'amicizia viene messa da parte e si inizia un dualismo ovviamente sportivo con ricco di agonismo, però sempre nel massimo rispetto all'uno dell'altro. Per quanto riguarda il ruolo titolare ancora è presto per dirlo, piano piano nel tempo comincerà a definirsi la rosa, allora lì potremmo dire sì c'è un titolare, no non c'è un titolare. Però c'è un'eredità importante, quella di Bendolfo che ha lasciato un ottimo ricordo al Gela Calcio. Sì, sì, Daniele anche lui come noi due già era stato nel settore giovanile, lo conosciamo anche bene, sappiamo della sua passata esperienza qua, ha lasciato un ottimo ricordo, due promozioni ha fatto se non ho sbaglio, quindi sì, ce la metteremo tutta sotto questo punto di vista per, se non uguagliarla addirittura per superarla e far meglio. Gela è una piazza abbastanza ambiziosa ed esigente, i tifosi vogliono sempre la vettoria, quindi questo è un ottimo stimolo per fare bene sia durante gli allenamenti che soprattutto durante le partite del campionato. Ma cosa ti hanno detto di Gela? Te ne hanno parlato bene speriamo. Sì, 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 assolutamente. Gela è una piazza che vive di calcio, ne ha dato dimostrazione lo scorso anno nel campionato di eccellenza, quindi saremo sicuri che darà ancora maggior dimostrazione quest'anno che affronterà un campionato più importante. Ma qual è l'obiettivo? Allora vedremo nel corso del campionato se potremo ambire a traguardi più importanti. Noi ovviamente partiamo con l'obiettivo della salvezza, poi se verrà qualcosa di meglio ben venga. Con il tuo omologo c'è una concorrenza leale, però poi alla fine meriterà chi più durante gli allenamenti ha meritato di indossare la maglia numero uno. Sì, sì, assolutamente. Con Giorgio siamo cresciuti insieme nel settore giovanile e ci ritroviamo qui a Gela. C'è assoluta stima e rispetto tra le due, quindi è una sana concorrenza. Avete costruito un bel gruppo, solido, amalgamato, vi volete bene? Sì, sì, assolutamente. La squadra è abbastanza giovane. Poi con tanti ragazzi già ci conosciamo perché hanno giocato nel Catania, Quali Stumbo, Dadone, Schisciano. Poi anche altri ragazzi che hanno giocato sempre qui nell'Inderland siciliano, quindi diciamo è un gruppo abbastanza affiatato.